Anche se all'apparenza non si nota nulla, ma il cantiere nella zona del Lido, i cui lavori dovrebbero porre definitivamente fine al problema degli allagamenti, che ad ogni copiosa pioggia trasformano Piazzale Amendola in una piscina naturale ed il sottopasso ferroviario in una trappola micidiale ed insidiosa per le auto, è già partito da diverso tempo. Fino ad ora però niente transennamenti, niente reti arancioni o macchine movimento terra, perché in effetti sono stati effettuati solo i rilievi geologici nel sottosuolo e altre valutazioni, i cui segni però ad un occhio attento sono evidenti, ma da dopo domani lo scenario del Lido cambierà completamente. Dall'edicola in giù, infatti, fino al Piazzale verrà allestito il cantiere e transennata l'area dei lavori per effettuare gli scavi e la posa in opera dei collettori fognari che permetteranno alle acque reflui di finire nella grande cassa di colmata che verrà posizionata nel sottosuolo, proprio al centro di Piazzale Amendola, dove ora si parcheggiano le auto. Ovviamente questo impedirà l'utilizzo dei due controviali da parte di pedoni e biciclette, garantendo però l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali sul lato mare. I lavori dovrebbero durare 45 giorni, speriamo ovviamente di far prima, però cautelativamente diciamo 45 giorni e inizieranno quindi giovedì. Quindi iniziamo, andremo a scavare, a posare i tubi, a liberare le caditoie, ovviamente ci saranno tante interferenze, compresa quelle degli alberi, eccetera, però è un'attività importante che inizia a entrare nel vivo. La circolazione stradale e quindi la viaria non subirà particolari ripercussioni? Al momento no, solo un'attenzione particolare, un po' di pazienza, chiediamo a chi ci abita e a chi ha le attività commerciali, perché ovviamente occupando i controviali non ci sarà più la possibilità di parcheggiare le bici e di passare a piedi, per cui ovviamente si dovrà trovare altre soluzioni. Ovviamente garantiamo il passaggio e l'accesso alle attività commerciali che quindi non subiranno danni, anche nei confronti di chi vorrà venirci, non ci saranno nessun tipo di problemi, è solo che comunque vedranno un po' di confusione, un po' di lavori in corsi, perché finalmente risolveremo questo problema annoso di questa zona.